Musica E allora siamo sempre a Montreal, penultimo giorno, domani ci sarà la premiazione, qui con noi c'è l'attore bravissimo Pierre Santini, un francese Pierre Santini, che è stato il protagonista di L'Homme d'Etat, mettiamoci le parole di Correct Mapes, che tutte le altre volte dicevo un uomo di Stato, invece è l'uomo di Stato, un film bellissimo che vi consigliamo di andare a vedere, e accanto a lui la ricordate, Luzi, il famoso soprano cinese, che è cantato anche per il Papa, che viene spesso in Italia ma non si fa vedere la birichina perché è troppo occupata a farsi dare cavalierati. A destra non manca? Ok, e allora, che scrivo pensi alla fine del set festival? No, ma voi parlate italiano, quindi cosa pensate di questo festival ormai che siamo arrivati alla fine? Prima la signora, Luzi. Oh, wow, secondo me io sto divertendo a sacco, perché si può vedere tanti film da diversi paesi, poi si può incontrare la gente nuova, anche incontro amici vecchi, quindi li troviamo qui attraverso l'arte, che informa il cinema. E Piazzantini, che invece è un attore che ha presentato questo film in competizione, come ha trovato questo festival? Beh, lo scopro, l'ho scoperto, perché ero già venuto una volta a Monreal per fare un film, per girare un film, vent'anni fa. E ho riscoperto a Monreal, ma ho scoperto il festival, che è molto simpatico, è molto interessante perché c'è gente in tutto il mondo, e ci sono tante possibilità di incontrarsi, di dialogare insieme, di parlare insieme sulla terrazza alle 5 alle 7, cioè sempre, ci sono degli incontri molto simpatici e molto sorprendenti perché quando arrivi sulla terrazza non sai chi c'è, chi vedrai, e poi c'è uno che viene verso di te, tu vedi un sorriso, vai da di là, poi vedi una signorina bella come questa, e invece l'imbarazzo della scelta, eh? E ci sono anche dei, la selezione dei film mi sembra molto buona, è molto diversa, ci sono dei film di, veramente di, non di qualità, ma di temi molto interessanti e diversi, sì. Mille grazie a tutti gli auguri del mondo, a tutti e due. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie.